Oggi andiamo a vedere altre costruzioni che su Minecraft sono veramente fatte ancora meglio che nel mondo reale Quindi, campioni, benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi salutiamo Mariana, Lello e Iago che hanno commentato lo scorso video con l'hashtag sonouncampione E oggi ragazzi voi deciderete qual è la costruzione più bella, mi raccomando ci tengo veramente tantissimo Quindi commentate alla fine del video con quale secondo me sarà la costruzione più bella e tutte quante quelle che abbiamo qua davanti Ne abbiamo veramente tantissime E partiamo già dalla seconda costruzione che è un... è un Scyther Allora, ragazzi, questo qua è uno dei Pokémon più carini che ci sia in generale Non so quanti voi lo conoscono se non mi sbaglio, è un tipo erba E già partiamo con un buon livello di costruzione, però devo essere onesto con voi Diciamo che io preferisco le costruzioni quelle belle giganti, quelle iper super reali Quindi, partiamo bene ma secondo me siamo partiti proprio bassi, bassi, bassi per poi vedere qualcosa di ancora più bello Con le prossime costruzioni Quindi, se Scyther era molto carino, vediamo la quarta... ma no, ma ancora i Pokémon! Ma ancora! Allora, ragazzi, io scarico praticamente queste mappe qua che contengono 100 costruzioni generali Per esempio, questa, ragazzi, contiene 10 delle 100 e siamo già a due Pokémon! Questo è un Charizard bellissimo! Allora, ne abbiamo visto un bel po' di Charizard di costruzione, ragazzi, però questo qui secondo me è il più particolare di tutti quanti Perché, a parte che a livello di blocchi di costruzione è fatto veramente super bene E guardate che figata che è la coda! Che fa tutto quanto il giro, ovviamente, con la miccia qua di fuoco Ma che bella! Le ali, ragazzi, sono bellissime Ma lui che spara il fuoco verso l'alto Diciamo che è ancora più spettacolare! Ragazzi, questo è 100.000 volte più bello di Scyther di prima Ok, se siamo già su questo mood qua, potremmo veramente trovare costruzioni assurde Questo è già per me un 10 su 10 Potrebbe già essere uno dei migliori 3, secondo me È difficile da battere una costruzione così bella Allora, abbiamo fatto la 2 La 4 Io andrei con la quinta costruzione, giusto per cambiare un po' Uuuuh, fermi un attimo È un'arena! Oh, cavolo! Allora, se non mi sbaglio, abbiamo già visto una costruzione su questo mood Ed era una specie di tigre Che era sopra a una, come dire, una collinetta Questo, ragazzi, questa in realtà è una bellissima arenna Ha un cervo Non lo so, a che differenza c'è tra una arenna e un cervo, ragazzi? Non lo so Ma posso dire, secondo me è un cervo Ma è bellissimo! Cioè, ragazzi, è proprio uguale alla realtà Cioè, non c'è niente di fuori posto Le corna sono bellissime Il musettino è bellissimo Poi quanto diamine è difficile fare costruzioni anche in diagonale Che sembrano anche quasi in movimento Perché questo qui è come se stasse muovendo la testa ora Con una zampa proprio avanti all'altra Quindi anche la costruzione in diagonale Ma, ragazzi, è pieno, zeppo, i dettagli che sono spaziali Anche queste erbettine qua fatte con le foglie di spruce Wow! Allora, onestamente, ragazzi, qua Noi stiamo raggiungendo un livello veramente molto molto alto E questo cervo è per me, ovviamente, più bello del Charizard Siamo già a un livello veramente, veramente tanto, tanto alto Ovviamente voi dovete ricordarvi tutte quante le costruzioni che troviamo da qui alla fine Perché nei commenti con l'hashtag sono un campione Dovrete commentare Ma qua stiamo veramente trovando roba assurda Allora, abbiamo fatto 2, 4, 5 Il terzo non l'abbiamo visto ancora, vero? No No No, 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 ragazzi Allora, non so quanti di voi sono fan di Naruto Per chi non lo è, ragazzi, vi spiego Questa qui è una rana enorme Che Naruto evoca quando ha bisogno di sbloccare un potere particolare Adesso ve la spiego proprio molto molto velocemente Il nome di questa rana è Gamabunta Ed è uno dei caratteri, secondo me, più carini di Naruto in generale Quanti voi sono fan di Naruto, ragazzi? Ci tengo molto Scrivetemelo questo nei commenti Sia se siete fan di Naruto E anche qual è il vostro personaggio preferito Per me ce ne sono tantissimi Tra Sasuke, Pain, Naruto stesso Ma ce ne sono tanti altri, Girachi È proprio bello, 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 bello Questo è uno dei personaggi più fighi Ma posso dire una cosa, ragazzi? Quanto diamine è fatto bene È proprio bello Cioè, allora, mettetevi l'incontro che, per esempio Per chi non sapesse di cosa stavamo parlando È proprio una rana Con dei vestiti E come notate, ragazzi Ma manca il vestito! Cioè, questa qua, ragazzi, è una vestaglia Che sta sopra questa rana enorme, gigantesca Guardate quanto diamine è fatta bene anche la vestaglia! No, ragazzi, oggi potenzialmente possiamo avere le costruzioni più belle che abbiamo mai visto nella storia di Minecraft Proprio quelle reali Questo è assolutamente 100 elode! 110 elode! Bellissimo! Con la sua pipettina anche in bocca Tantissima roba, ragazzi Questo per ora è assolutamente il mio preferito Ma non vale dirlo per ogni costruzione che incontreremo Cavolo! Allora, seconda, terza, quarta e quinta fatta La prima l'abbiamo balzata, però Quindi andiamo nella prima Vediamo cosa abbiamo No! La bambola di Squid Game! È lei? Sì, è lei, è lei, è lei, ragazzi È lei Ma che figata! Per chi non sapesse, ragazzi, di cosa stavamo parlando È la serie tv coreana Molto, molto famosa E questa qui è la bambola del primo livello della sfida Quella che gira la testa in base al stile 1, 2, 3 stella Per chi non sapesse di cosa stavamo parlando Ma che figata! Ma quanto è fatta bene, scusatemi A parte che è gigantesca Guardate dal basso quanto cavolo enorme, ragazzi Cioè, questo qua è il personaggio di Minecraft Ed è tipo alto un quarto del piede Pensate al resto quanto diamine enorme Ma è bellissima! Bella, bella grande Bella anche particolare Proprio anche i dettagli Gli occhi sono fatti un sacco bene Anche l'espressione facciale della statua stessa Che comunque è una cosa che ricerchiamo Quando guardiamo le costruzioni così reali È fatta identica alla bambolina di Squid Game Quindi, molto bella, ragazzi Non bella quanto Gamabunta o il cervo di prima Ma molto, molto particolare Molto, molto carina È fatta soprattutto molto bene Allora, tutte le prime 5 costruzioni le abbiamo fatte Io andrei anche in ordine con i prossimi Quindi, sesta costruzione Vediamo chi abbiamo qua davanti Allora, chi è? È un personaggio che non conosco, detto onestamente Non ha i piedi, purtroppo Ma, se voi conoscete, ditemelo Ma, mi sembra molto un carattere anime o manga Proprio guardandolo anche dagli occhi Allora, se diciamo una cosa, ragazzi È fatto molto bene Perché è proprio una persona reale Vera e propria Piero di dettagli Con tutte quante le forme I capelli, ragazzi Guardate che figata Che sono i capelli Che vanno giù fino in fondo Con un sacco di ondine Ragazzi, fare queste robe qua A livello proprio di costruzione È di una difficoltà incredibile Perché proprio non parliamo di una roba Mettere dei blocchi dritto per dritto Fare dei quadrati, rettangoli Cioè, qua proprio Abbiamo tutte quante le forme dei capelli Le forme del mantello Mamma mia Questa qua cos'è? È una spadona enorme Ma che... No, ragazzi Mamma mia Mamma mia Che... Pensavo fosse una specie di coda Ma in realtà, ragazzi Questa è proprio la spada in sé Ha due spade, come notate Questa qua che va dietro E ha anche questa qua che va giù Per poi non parlare comunque, ragazzi Anche del resto Mamma, mamma Posso dirlo? Possiamo dirlo, ragazzi Per me oggi stiamo incontrando Le costruzioni più belle Che abbiamo mai visto su Minecraft L'ho detto Siete d'accordo con me? Commentate qua sotto nei commenti Con l'hashtag Sì, sono d'accordo Oltre che all'hashtag Sono un campione Siete d'accordo con me? Perché mamma mia Che figata! Settima, settima, settima costruzione Andiamo avanti Che è sta roba? Ma è un portale del nether E del land enorme Ma da quando si... Ma scusatemi Ma come è possibile? Mancano proprio degli enderai Allora È una costruzione Non è ispirata a nulla Nella realtà Però è una mano Ma che diamine Ma ok È un bug del land Questo è il portale del land È una mano Che esce dal portale del land E tiene in mano Una specie di martello Come se appunto Stasse per evadere La dimensione del land Per entrare nell'overworld Allora posso dire Che il martello Non mi piace più di tanto Ma il portale così Non sapevo Si potesse fare ragazzi Che si può fare Più grande di un classico 3x3 Carino Bella l'idea Di fare un portale così tondo Il resto Non mi ha fatto Così tanto impazzire Proprio proprio Onestamente parlando Andiamo con l'ottava costruzione Ragazzi Che cavolo è sta roba? È una carrozza Mamma ragazzi In un sacco di film O serie tv Ispirate al passato Ne ho viste Veramente tante Hanno fatto anche Dei mattoni Che blocchi sono Questi con la clay? Geniale Posso dire Che ragazzi Questa entra Nella top 3 Delle costruzioni Più belle Mamma mia Di lato ragazzi È uno spettacolo Questa è una carrozza Ispirata A Tipo A non so che epoca Magari A un centinaio di anni fa Credo Ed è Wow Bellissima Fatta tutta quante In oro Con le ruote In oro E giallo Ma poi è enorme Come fanno a costruire Ste robe Mi spiegate un attimo Ragazzi Come fanno a costruire Ste robe così gigantesche Cioè io non sono Neanche arrivo Alla ruota Praticamente Ma è gigante Bellissimo ragazzi Io ve l'ho detto oggi Probabilmente l'ho ripetuto Un sacco di volte Ma queste costruzioni qua Sono di un livello Completamente molto più alto Rispetto alle altre Che abbiamo visto fino ad ora Che figata Tanta tanta roba ragazzi Questa top 3 Delle costruzioni più belle Che abbiamo visto oggi Mi piace veramente tantissimo Si fa di nona costruzione ragazzi Sonic Ma quanto ho giocato a Sonic Da piccolo ragazzi Mamma mia Con la Playstation 2 C'era un sacco di giochi Bello Dai allora Non mi piace il colore della pelle Perché questo Questa Sanson qua Secondo me è proprio Sprecata È proprio brutta Anche gli occhi Io non li avrei fatti di lana Io li avrei fatti più che altro La pelle di concrete Piuttosto che la wool blue E gli occhi Li avrei fatti di quarzo bianco Anche qua Io non avrei usato per niente la lana E la Sanson Non avrei usato sicuramente La concrete E piuttosto la terracotta O qualche altro blocco Che renda tutto quanto io bello Però A livello proprio di dimensioni Secondo me È fatto molto 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 bene Ha molte pecche Ma anche Molti dettagli Anche le scarpe Per esempio Sono fatte Non so perché ci sia un letto Alla in fondo Ma Dicevo Le scarpe sono fatte veramente Molto 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 bene Sono un sacco di tagliate Proprio anche il corpicino in Sonic Tutti quanti i capelli indietro Sono fatti Super bene Bello 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 ragazzi Sonic è molto molto carino Complimenti a chi l'ha costruito Perché è proprio Dettagliato per bene Peccato un po' Per i blocchi di costruzione Quindi arriviamo già all'ultimo ragazzi Alla decima costruzione Costruzione Ma è Steve Ma Ma è Steve Sopra un porcellino Con un stick di carote Bello Non molto dettagliato Non è che sia così tanto particolare Come mi aspettavo Ma Molto 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 carino Però abbiamo trovato sicuramente Roba più bella ragazzi Vero Vero Campioni Commentate qua sotto nei commenti Con quale è stata la vostra costruzione preferita Che lascerò un cuoricino a tutti quanti Saluterò tre di voi in un prossimo video Ditemi Se volete vedere tutte le altre costruzioni Che ci sono ancora da vedere E noi ci salutiamo qua Ci vediamo in un prossimo video Ragazzi Mi raccomando Scegliete uno Dei due video qua davanti Dal vostro caro Marco E tutto Noi ci salutiamo qua Ciao campioni